La trama è abbastanza semplice, nel senso è la storia di un cialtrone, figura tipicamente italica, che avendo fatto fallire il proprio bed and breakfast e vedendo che invece di fronte le suore hanno questa specie di convento sempre pieno di turisti e pellegrini, decide di far diventare il suo posto un luogo di culto per poter ottenere gli sgravi fiscali. Per poterlo fare deve fondare una religione e siccome non sa fare nemmeno quello si affida a sua sorella che è una commercialista e quindi da un punto di vista quantomeno legislativo conosce la situazione e si affida al nuovo compagno della sua ex moglie che è uno scrittore abbastanza sfigato in partenza ma è un grande esperto invece di filosofia e di teologia. Questo strano triade fonda lo ionismo. Il problema è che poi la gente comincia a crederci veramente.